buongiorno buongiorno a tutti buon venerdì buon fine settimana spero che stavolta la live si veda quindi chiedo per cortesia se c'è qualcuno quando qualcuno si connetterà se mi fa il favore mi dica se se si vede la live si sgrana se vado a salti o meno io spero che la connessione tenga come state buongiorno buongiorno antonella buongiorno federica era un po che non mi facevo viva in live e voi sapete sto attraversando un periodo che lasciamo perdere comunque mai mollare però siccome è venerdì ci tenevo a farvi il consueto salutino periodico simi settimanale che ormai settimanale più non è comunque spero stiate tutti bene raccontatemi intanto saluto ovviamente tutti quelli che riusciranno a passare anche soltanto a fare un cione cione e quelli invece che vedranno la live poi indifferita eccetera eccetera spero siate tutti bene spero anche che la luce insomma sia decente oggi di nuovo si prospetta un tempo di quelli proprio da copertina sul divano tisanina calda bel libro buona musica e addios no poi devo uscire quindi vi faccio un saluto due ciaccoline e poi esco vado a fare un gerettino qua al mercato che il venerdì c'è il mercatino di paese vado a vedere se c'è un po di verdurina buona buona devo prendere delle uova faccio due passi perché sono stufa di stare in casa però ha fatto veramente un tempo schifoso e quindi vabbè anche per cercare di prendere un po d'aria ciao Antonella ah no sei sempre tu Antonella ok la Manu comincia benissimo la giornata c'ho pure gli occhiali vabbè comunque sì in effetti dai la miccia allora la miccia il tumore è sempre rientrato ma vedo che ha le zampe a tutte quattro le zampe con delle non so non so neanche come spiegarlo credo che sia dovuto al tumore ecco lei è bianca cioè ha la pelle rosa al pelo bianco e grigio dove ha la pelle dove ha il pelo bianco lei ha la pelle rosa come carne ha tutti dei puntini scuri non ha parassiti però probabilmente secondo me è dovuto proprio al tumore quindi non lo so però per il resto ha altalena dei giorni a dei giorni in cui è più attiva giocherellona mangia mangia tranquillamente ha dei giorni dove invece è più mogia è più stanca non lo so è più forse anche lei sente il tempo poi i gatti sono strani i gatti hanno delle loro personalità molto molto particolari già lei è molto stramba di suo quindi vabbè però vedo che mangia va nella cassetta gioca anche con l'altro hanno i loro momenti di pazzia per cui non ho notato dei cambiamenti in quello ci sta che ci siano delle giornate un po come noi no giornate in cui abbiamo più vitalità più energia giornate in cui proprio non ci rompette le balle non vogliamo vedere nessuno ci rinchiuderemmo in una caverna per conto nostro senza dover avere a che fare con nessuno comunque io vi ringrazio sempre perché mi chiedete come sta la miccia come sta frea grazie grazie mille io vi tengo aggiornati però ecco novità non ce ne sono sostanzialmente è altalenante però situazione abbastanza stabile ciao cosetta ottimo allora io per lo swap di natale eh tra l'altro fra un pochino poi comincerò a rompervi le balle no sto scherzando e no tanto siamo il 12 novembre no verso la fine di novembre poi comincerò un po a scrivere a tutte le partecipanti dello swap per sapere come siamo messi io ho terminato tutto tranne una cosina che farò in questi giorni o anche il weekend no il weekend no il prossimo weekend andremo a fare un saluto ai miei suoceri su a mondo di perché sono parecchi mesi che non andiamo perché qui non si sa come andrà a finire la situazione no vabbè arriviamo allora questo natale l'idea nostra anche tenuto conto della gatta di come sta la gatta del cane andiamo a fare il natale su da mia mamma il giorno di natale proprio facciamo la giornata con lei poi anche lei al cane che non lo può lasciare da solo se no va in crisi quindi siamo un po un po vincolati però più che altro per non lasciare da sola mia mamma proprio il giorno di natale far venire lei qui col cane è un disastro perché poi i gatti me la fanno in giro e quindi andiamo noi in giornata con mia mamma le ho detto ridendo l'altra sera mamma a casa le dici se ti invadiamo casa il giorno di natale veniamo su a trovarti facciamo la giornata insieme sempre che non decidano per il terzo anno consecutivo di chiuderci ovviamente lui si dice per scaramanzia così ridendo ma insomma vedendo come stanno andando le cose del nostro paese tra l'altro anche mia mamma ha fatto la seconda dose a luglio come noi per cui noi la terza dose la faremo a gennaio sicuramente da gennaio a partire boh speriamo speriamo veramente che non chiudano di nuovo sotto le feste di natale perché davvero sarebbe una barzelletta tragicomica comunque anch'io mi sto portando avanti un po per le cosine a no si stavo dicendo dei miei suoceri ok che era un botto di tempo che non andiamo a trovarli e quindi ho fatto un po di cosine ho fatto un po di pensierini per che sarebbero natalizi le li do un po in anticipo sto finendo uno scialle per mia suocera devo fare uno scaldacollo per mio suocero però lo scaldacollo alla fine si si lavora anche in due giorni ho fatto uno scialle per una zia di Michele sua mondo vi che è malata di tumore sta facendo la chemia ho perso i capelli sta molto male e quindi anche lei sono mesi che non la vediamo presentarsi a salutarla mani vuote non mi sembra bello e quindi ve lo faccio vedere ho fatto uno sciallettino utilizzando un filato di lana di biella che è una rocca poi ve lo scrivo giù nell'info box vado a ripescare il codice è un misto lana è il classico chalus cioè è il modello chalus che ho fatto il tutorial lo chale veramente velocissimo caldo confortevole le ho fatto questo chale lei ormai non non esce più di casa se non per andare a fare la chemio non guida più la assistono in tutto non è più totalmente autosufficiente e allora ho pensato mi sono anche consultata con le mie amiche della delle crotule insomma che cosa poterle fare e alla fine mi hanno appunto consigliato di farle uno scialle da stare anche in casa bello caldo morbido che la possa proprio tenere un po abbracciata e questo filato penso si veda è pelliccioso io non vado matta cioè sono onesta non non mi piacciono molto queste tipologie di filato anche i bucle a me non piacciono i bucle non i filati pelliccia però devo dire che questo ha una morbidezza che io non all'inizio pensavo fosse sintetico no e invece al 65 per cento di lana quindi è buono e il resto mi pare sia poliamide credo no no non vi scusa penso poliamide comunque a parte il colore che è un color panna quindi non è neanche quel bianco un po stucchevole è proprio un bel color panna burro e poi è morbido è sofficissimo morbidissimo a me interessava che non le magari non le potesse pungere non le potesse dare fastidio questo veramente cioè realizzare una coperta con questo filato secondo me si vince a superennalotto ne ho ancora un po sulla rocca pensavo di fare un berretto però anche lì lei non ha i capelli sulla cute delicata una persona che non sta bene tutto non mi voglio azzardare a farle anche il berretto piuttosto aspetto e vedo se le piace lo scialle se le piace la consistenza del filato glielo spedio glielo faccio e poi glielo spedisco ecco bene ciao loredana buongiorno e quindi niente ho fatto questo scialletto poi 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 per mia mamma devo cominciare a lavorarle la coperta rettangolare e e nulla e poi sto facendo qualche cosina per per casa per natale ho fatto la pallina pudding per l'albero l'addobbino e ho fatto cioè è uscito stanotte il tutorial perché l'ho messo a caricare ieri ma io appunto con la dsl che ho è anche un tutorial abbastanza lungo però ho fatto un addobbino per l'albero forma di pudding poi voglio fare una casetta di pan di zenzero piatta da appendere sempre all'albero o alla porta e ho trovato delle foto su pinterest penso siano giappone giapponesi o coreane non mi ricordo comunque eh non è che si riesca a capire molto le istruzioni ma alla fine sono progetti comunque lavorati tutti a maglia bassa quindi per uno che ci smoccola un po' con anche soltanto visivamente a cercare di ristrutturare un po' il progetto si può fare e allora senza comprare gomitoli senza comprare nulla ho trovato questo misto lana che avevo trovato in un ho ritrovato questi gomitoli ce ne sono un bel po' li avevo lavati quest'estate è un misto lana e proviene da qualche stock che avevo comprato al mercatino dell'usato o da quelle persone non so pota cantine che si liberavano li ho lavati tutti quest'estate quindi insomma e il colore secondo me ci può stare per il pan di zenzero sì forse è un po' scurettino ma neanche più di tanto ecco fosse stato marrone allora no però per simulare il pan di zenzero e quindi voglio provare a fare la casettina poi l'altra settimana siamo andati in edicola domenica io e Michele perché era uscito il numero nuovo di Sherlock Holmes collection sto facendo sulla collana di Sherlock Holmes dei racconti di Conan Doyle e sono veramente fatti molto bene e ho dato un'occhiata al reparto riviste creative sapete no adesso cominciamo con il cucito creativo del Natale chi più ne ha più ne metta c'è ne è veramente da sbizzarrirsi e ho preso questa l'ho fatta vedere anche su Pinterest mi psica il naso scusatemi quando maneggia della lana un po' ispidina perché è un po' pelosetta ma poi mi impizzica il naso sarà un riflesso involontario comunque se vi può interessare in edicola trovate uncinetto Joe lo speciale di Natale magico Natale 43 schede tecniche per le tue creazioni focus decorazioni vediamo della spreditore sì credo che sia uscito adesso bimestrale numero 28 costa 6 euro e 90 che vabbè voglio dire ci sta però i progettini allora io con le riviste creative avevo dato veramente una una torchiata un giro di vite perché avevo deciso di smettere di comprarle ovviamente quelle che mi interessavano mi stuzzicavano un po' così la fantasia perché spesso e volentieri trovate gli schemi sbagliati trovate delle imprecisioni oppure su 30 schemi ne avete due che vi piacciono insomma il gioco non vale la candela e invece ho dato una sfogliata e ci sono dei progettini molto interessanti alla portata anche di tutti tra l'altro sono spiegati in modo comprensibile ecco per esempio non ve la faccio vedere troppo troppo in dettaglio perché col copyright che sono una rivista appena uscita col copyright e tutto meglio non andare allora per esempio c'è il progetto del calendario dell'avvento fatto su un pannello di stoffa con tutte le caselline a uncinetto con la taschina con i numeri e dentro ci potete mettere il pensierino poi ci sono le calzette della befana con il fiore africano sempre tutto uncinetto poi le ghirlande guardate che tantissimo base rattan anche questa base rattan e poi si possono fare le ghirlande all'uncinetto di agrifoglio e i due petti rossi e il vischio guardate che carina questa invece con gli omini di pan di zenzero i funghetti le candy canes carina poi c'è il runner centro tavola gli ignometti guardate che carini questi ignometti all'uncinetto il naso è fatto con la lanna cotta e quindi poi le spiegazioni tecniche sono tutte fatte in questo modo e poi alla fine una nella metà ci sono le spiegazioni poi nella seconda parte della rivista ci sono altri progetti per esempio c'è il maglioncino per i cani all'uncinetto c'è una cappa una mantellina una cappa fatta all'uncinetto sempre con i cagnolini c'è il porta penso il porta sacchetti si in porta sacchetti sempre per i cani i manicotti no dai è carino mi è piaciuto tutto sommato mi è piaciuto ci sono un paio di maglioncini c'è una stola un angiolino dai ve lo consiglio alla fine ci sono un po di cosine che possono tornare utili sta uscendo il sole non mi dire adesso poi apro anche un po la finestra così le mie piante pigliano un po di sole mister mango mister mango sta bene e voilà questo è mister mango vediamo un po ma gli ho dato da bere e gli cambierò anche vado sta primavera che dite adesso non posso perché non è stagione però sta primavera cambiamo casetta ecco qua poi aspettate che leggo io sto facendo una copertina biancolata appunto canestro per una mia amica che compie gli anni so che ne usa una vecchiotta di pile quando va a fare meditazione shasu è una bella idea holly arecco ciao come li lavi i gomitoli i gomitoli io li lavo come lavo anche la lana succida quando avevo avuto il mio trip di pulire la lana grezza recuperata semplicemente prendo una bacinella un bel catino una bella bacinelluna acqua fredda allora vabbè per la lana grezza sapone di marsiglia per i gomitoli ho fatto una tornata stestate stestate quest'estate con qualche goccia del sapone per il bucato a mano della copp però la marca non è importante si può anche utilizzare il sapone per capi delicati e qualche goccia non troppo in acqua fredda e poi basta semplicemente sciacquandoli li ho lasciati un po' a mollo un'oretta un'oretta e mezza poi li ho sciacquati sempre con acqua fredda non li ho strizzati troppo 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 allora se avete se dovete lavare dell'acrilico chissene del cotone anche chissene se dovete lavare della lana o del misto lana state sempre attenti perché la lana rischia di subire sbalzi termici se sbagliate temperatura e se strizzate troppo si infettrisce e quindi anche l'attrito può creare problemi per cui strizzarli così proprio delicatamente insomma e poi sullo stendino chiuso all'ombra in un luogo possibilmente ventilato comunque non sotto la luce diretta del sole li lasciate lì finché si asciugano ogni tanto li rigirate meglio se ci sono anche delle giornate un po' ventilate un po' di corrente si asciugano prima ogni tot li girate per farli asciugare anche dall'altra parte e stop poi allora io questi qua li ho lavati perché venivano da chissà quale cantina cioè non li ho lavati io quando compro filati non li lavo io lavo sempre il capo finito una volta che ho uncinettato sferuzzato tendenzialmente io non lavo mai i gomitoli acquistati però questi qui erano gomitoli che chissà quanti anni hanno chissà in che condizioni sono stati per cui a me piaceva tanto prendere i sacchi tipo a 6 euro 10 euro con 50 kg di gomitoli quelli da sbuota cantina e dall'usato lì c'era magari della polvere c'era un po' di sporco e tutto anche per l'odore di chiuso quella puzza di chiuso non li avrei mai messi assieme ai miei gomitoli che sono tutti profumatini con l'antitarme tutti belli ordinati e quindi ho preferito dare una bella lavata insomma e basta tutto qua però io non lavo mai i gomitoli nuovi appena acquistati lavo quelli che sono in condizioni tali per cui mi farebbe schifo anche soltanto tenerli in mano ciao Monica buongiorno guarda le notifiche di Instagram che ti ho lasciato una foto ok Monica grazie io Instagram lo guardo pochissimo cioè ci carico delle foto quando mi ricordo ok ok allora oggi pomeriggio poi ci guardo grazie anzi se mi avvisi perché io sono cioè non lo faccio apposta ma veramente Instagram poi ultimamente i social mi stanno veramente stomacando quindi sì ho caricato un paio di foto ultimamente su Instagram per il resto sono un po' la nausea dei social ciao grazie buona giornata grazie mille e nulla poi altre cose non è che abbia tantissimo da dire insomma eh sì sto cercando di fare qualcosina ah ecco ecco una cosa aspettatene tanto il mio fraccione proprio pum mi devo anche lavare i capelli che poi dopo devo uscire ma non si esce ciossi si esce bellini bellini anche perché questa sera devo pure andare a fare la spesona grossa e quindi devo stare in mezzo alla gente quindi per stare in mezzo alla gente non sa da puzzare ah vabbè dunque mi è venuta una tristezza immensa sentendo mia mamma la settimana scorsa parlando del presepe perché Michele sta facendo il presepe e così un po' mia mamma ha ancora tenuto tutte le statuine di mio babbo quando era bambino che in casa facevano il presepe ha tenuto tutto anche perché fino a quando ero piccola fino alle medie più o meno mia mamma oltre all'albero faceva anche il presepe in casa poi dopo ho piantato lì perché era più casino che altro con i gatti i gatti e presepe non è cosa però ho tenuto tutto più che altro per ricordo e poi con la legge del non si sa mai parlandole così e le ho detto dai mamma allora quest'anno l'albero perché da quando è mancato mio papà mio papà ci teneva tantissimo l'albero di Natale le palline passavano delle ore a litigare sono bei ricordi perché era litigare per modo di dire mio babbo aveva un suo gusto estetico tutto particolare però per esempio mio babbo faceva le cose al contrario mia mamma poi si incazzava come una iena perché mia mamma è molto pratica è molto schematica è molto logica mio babbo invece era vivere sulle nuvole così no? guarda perché lui dice spero non vi dia troppo fastidio e quindi mia mamma giustamente fa le cose in ordine non monti l'albero metti le luci metti le decorazioni metti le palline eccetera mio babbo faceva le cose al contrario mio babbo cioè aveva già l'albero montato perché è guai mio babbo prima metteva le palline poi pretendeva di riuscire a mettere le luci e vabbè però aveva un gusto nel sistemare le palline un po' a cazzo di cane mia mamma si incavolava smontava tutto rifaceva poi se mia mamma doveva uscire per andare a fare commissioni eccetera mio babbo stava a casa mio babbo aspettava che mia mamma uscisse quindi fosse fuori dalle balle rifaceva tutto cioè tirava via tutto come aveva fatto lei e rifaceva a gusto suo quando mia mamma tornava a casa ovviamente cioè si accorgeva subito che eh qualche tupolino era andato eh i culi i culi i culi che faceva però poi alla fine era era bello quindi mia mamma da quando è mancato mio papà non ha fatto cioè questi due natali che abbiamo passato col covid non ha fatto l'albero perché ha detto sono da sola c'ho il cane che corre che magari ci sbatte contro fa cadere o si mangia le cose e però io penso che più che altro non l'abbia fatto perché le ricordava comunque una cosa dolorosa un ricordo cioè non avere la persona che ti ha seguito per tutta la vita con cui hai condiviso tutta la vita non cioè non ti dà più il gusto di fare queste cose e mi è venuta è molta tristezza perché le ho detto dai l'albero lei no 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 ma no ma cosa mi metto a fare l'albero ma figurati non ci penso neanche così poi lei è molto sbrigattiva non sta tanto a lei non esprime emozioni è molto fredda e quindi mi è venuta l'idea ma se glielo faccio io perché poi le ho detto ma ti compro ti regalo l'alberellino piccolo no da mettere sul tavolo così il cane non ci arriva e non ha i rischi ma no poi lei non dice mai sì lei dice no 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 cioè quasi che tu le faccia un dispetto no allora ho pensato quasi quasi glielo faccio io un alberello di Natale a mio modo all'uncinetto così no da mettere sulla porta con un chiodino e fai la fai la la asola il fiocco poi lo appendi come se fosse una sorta di ghirlanda albero per la porta ho guardato un po' su Pinterest scusate il caffè e ho trovato delle foto con delle mattonelle granny cucite o incollate con la colla a caldo che simulano un albero ho messo la foto su Instagram e allora vabbè ho fatto cioè ci sto provando perché poi ho pensato ma quasi quasi lo faccio pure per noi e per i miei suoceri da portare su perché anche i miei suoceri non fanno albero o meglio mia suocera va ad annate ha delle annate in cui fa di tutto delle annate in cui proprio il motorio assoluto e quindi ho pensato tanto è veloce da fare poco impegno è molto carino per cui farò magari anche il tutorial prossimamente più che altro devo andare a comprare delle decorazioncine piccoline perché non ne ho praticamente è un alberello fatto vabbè più o meno adesso non lo so cioè questa è la base sono sei mattonelle grenni si possono fare bianche rosse oppure bianche verdi o verdi e bianche a seconda sono tutte a scalare come dimensione la più grande fino alla più piccolina che è piccina quindi viene fuori un bel alberello così la parte che va in contatto si incolla con la colla caldo o si cuce con i punti nascosti e poi si possono decorare con dei fiocchettini con quelle palline piccoline con dei bottoncini di quelli appunto con i soggetti natalizi poi uno con i nastri uno lo può decorare come meglio preferisce mi è sembrata un'idea carina insomma poi una volta che non occupo a posto perché lo appiccichi alla porta per cui non è che e magari facciamo il tutorial dai anche se ci sono già su youtube cioè si può anche fare con il solid grenni se a uno non piace la mattonellina grenni classico però è una stupida da fare perché fate praticamente col colore che volete potete fare uno due giri bianchi e il giro rosso poi lo ingrandite fate tre giri bianchi un giro rosso quattro giri bianchi e uno rosso sei giri bianchi e uno rosso no aspettate il più grande ne ha sette la mattonella più grande ha sette giri bianchi e uno rosso sei giri bianchi cinque quattro tre due ok sì e vengono fuori sei mattonelle poi si può fare anche più grande ancora e volendo basta aumentare di un giro i punti bianchi sempre col grenni quindi lo fa anche veramente un imbranato atomico e poi lo potete decorare come volete ecco con i colori che volete e boh proviamoci quest'anno è l'anno delle decorazioni fatte in casa non voglio comprare nulla se non appunto quelle due o tre cosine che non ho in casa per decorare questi alberelli e quindi boh facciamo così buongiorno marianna monica i gatti il presepe lo usano per dormire allora michele noi che stiamo assieme io e michele che sono 12 anni non l'abbiamo mai fatto il presepe solo l'albero e già con l'albero abbiamo deciso di non mettere più le palline di vetro perché non ce ne sono mai oddio aspettate la grammatica non ce ne hanno mai rotte fortunatamente però insomma se scadono si rompono finiscono i frammenti rischiano di fare male quindi già anche quelle di plastica comunque se si rompono fanno male lo stesso perché hanno quelle schegge e quindi ecco perché anche l'anno scorso ho cercato di non metterne tante di mettere più che altro i miei saccocetti ricamati appunto croce di fare un po' di decorazioni fatte in casa perché mal che vada però ho visto che i gatti ormai comunque hanno 10 anni non sono più gattini che saltano che devono rompere tutto che devono tirare giù tutto il cane lui ha i suoi peluscia i suoi giochi però ho deciso di non comprare più decorazioni anche perché non è che puoi caricare l'albero comunque parlando di presepe quest'anno Michele ha voluto fare il presepe il classico presepe napoletano tra l'altro è venuto veramente molto bene sta venendo perché è ancora in fase terminale è alla fase di pittura però abbiamo deciso di metterlo in alto sulla mensola della televisione cioè del mobile della tv in alto in modo tale che i gatti non ci possano arrivare comunque le cose si vedono perché è tutto a gradoni quindi non è un presepe piatto è tutto tipo scavato ha creato una parete rocciosa di una montagna e quindi è tutto a gradoni è tutto con i vari piani per cui anche in prospettiva si vede bene con tutte le lucine che sembrano delle torce no ha fatto un gran bel lavoro poi magari metto qualche foto o le metterà lui perché toccate le cose all'artista poi si incazza no vabbè però devi andare a prendere della carta roccia per fare alcuni dettagli però è venuto molto bene però sì l'essenziale è tenere fuori dalla portata dei gatti pari il bugiardino di un medicinale allora Marianna l'amicia va va altalena altalenante però diciamo che se sta così non mi lamento però si ha delle giornate sì delle giornate no ma credo che sia anche dovuto sia al suo carattere al tempo ha un po' le zampe un po' rovinate però cioè rovinate acqua è un tumore cutaneo ha una forma per ora ha una forma cutanea poi non sappiamo se abbia già delle metastasi dentro però la forma esterna cutanea che è quella che si vede per il momento sì non lo so ecco è un po' così vabbè però insomma la vedo lei fa tutte le sue cose quindi non è non sta male nel senso non mangia no no anzi mangia che è un continuo scrocchettare qua ho notato che beve molto volentieri il brodo di pollo il brodo di pesce che le faccio io quando preparo appunto il pollo con le cosce le ali faccio il brodo oppure con i filetti di meruzzo faccio il brodo di pesce l'altro mangia la ciccia lei beve il brodo come una vecchia proprio sì dai è carino l'albero granny sono quelle idee alla fine che fai in pochissimo tempo poca spesa tanta resa e ne puoi fare c'è anche un bel regalo secondo me per uno che magari o non vuole l'albero o non vuole mettere l'albero albero albero sarebbe bello anche farlo col verde col verde e col bianco come bordo e nulla ciao Lucia buon di allora le foto penso che le ma sì le metto magari su allora chiedo il permesso prima perché non è roba mia guai guai però sì figuriamoci magari le metto sul sul gruppo di perché mio marito ha la pagina facebook delle sue miniature delle pitture però poi ve le metto sul gruppo di black ship non sul gruppo delle croppole ma sulla pagina di black ship sto incasinando no no comunque poi lo metto ormai siamo agli sgoccioli anche perché se poi il fine settimana prossimo siamo dei suoceri il fine settimana dopo è il complesso di mia mamma quindi siamo da lei è arrivare all'otto questa scheda utilizza la fotocamera o il microfono che è sta roba mia comparsa sticona va vabbè io spero che adesso comunque vi lascio perché mi devo sistemare poi devo andare però sì spero che la live abbia tenuto abbastanza bene come immagine che non abbia sgranato progetti di beneficio vabbè no tisanine abbiamo parlato di tutto tranne che di quello che avevo scritto vabbè tisanine del periodo allora che vi consiglio una no una sni le altre due che vi consiglio anzi questa mi sapevo mai è finita ce n'è ancora una allora sono le tisane gli infusi gustosi della Bonomelli questi qua li ho trovati all'ipercop però penso che si possano trovare tranquillamente anche in altre catene allora questo è nocciola e vaniglia e questo è mandorla e caramello sono 100% naturali con frutta secca costano perché costano e dentro ce ne sono 10 di filtri quindi insomma non è che si siano sprecati più di tanto ci sono le bustine così profumano tantissimo ma non di chimico cioè sono buoni è un buon prodotto a Michele sono piaciute tanto in particolare quello la mandorla e caramello il caramello è una nota cioè non è che sia troppo intenso e carta filtro in fibre di cellulosa ingredienti 100% naturali senza calorie vabbè insomma e adesso ovviamente si fanno caldi gli infusi però oh mamma mia ci stiamo inondando di luce celeste adesso comunque chiudo così non vi da troppo fastidio mamma mia eh sì ma è il sole aspettate proviamo no peggio che andare di notte e vabbè portate pazienza abbiamo la benedizione del sole e niente quindi insomma ve le consiglio adesso si bevono calde ovviamente però d'estate si possono anche fare gli infusi freddi quello che non è che vi consiglio più di tanto cosa posso fare faccio un un filtro com'è che è ah così no scema eh sì qua qua dovrebbe essere il punto così devo mettere una tenda è questo qui sempre della monomelle se ve lo metto dalla parte dove non l'ho spaccato è meglio infusi speciali 100% naturali quindi è sempre cioè vedete la linea bene o male è molto simile cacao e menta e menta alla piemontese la menta anche qua penso siano 10 filtri rosa canina caruba aroma naturale 10% citronella menta dolce mora dolce anice pepe nero scorza di cacao 0,9% allora a me una volta piacevano i cioccolatini after eight quelli cioccolato fondente e menta aspettate che mi viene un crampo al braccio come che era così no 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 Manu così ok ma si può fare il video così è stucchevole tra l'altro sempre della bonomelli avevo provato a prendere quest'estate cocco e cocco e zenzero dei fruttosi anche lì troppo stucchevoli cioè non hanno zucchero ovviamente ma sono troppo dolciastri a me le tisane gli infusi di frutta troppo dolciastri non piacciono per cui questo è un ni gli altri due invece oh ho perso la presa aiuto così gli altri due sì io ne sto bevendo a litri di tisane poi ne ho un casino da vedere che è successo allora non hanno aromi tra gli ingredienti allora questo li ho letti gli ingredienti sì aroma naturale 10% questo vediamo gli altri allora quello mandorla e caramello ah mela mandorla carruba anice in semi mora dolce foglie cicoria e radice aroma naturale 1,6% la nocciola a mela carruba nocciola liquirizia e radice mora dolce foglie aroma naturale 2,9% che si sarà sia aroma di nocciola che di vaniglia vaniglia bacche 0,08% cicoria e radice contiene tracce di frutta a urso ok ah sì dai allora io tendenzialmente preferisco le tisane gli infusi di frutta sfusi quelli che prendo al negozio però questi alla fine più che altro sono comodi perché Michele la mattina si fa il termos da portare in ufficio quindi per l'infusione tutto sono anche pratici ecco sono comodi e poi ogni bustina è chiusa nella sua bustina quindi non perde aroma ecco non sono come i piramidi i piramidi oh mamma le piramidi che sono invece così all'aria che magari perdono un po' di aroma poi bene capitolo tisanine del periodo del momento anzi parlato ok ciao Monica un bacione grazie mille che sei passata a farmi un saluto poi ti rispondo su Instagram tanto io tengo sempre qui no vi volevo parlare l'ultima cosa così al volo veloce ma sicuramente ne parleremo ancora perché comunque è un capitolo abbastanza ampio da trattare sono i progetti di beneficenza che ci sono anche tutto l'anno che possono coinvolgere appunto i creativi ma a maggior ragione adesso che andiamo verso il periodo delle feste allora ve ne volevo citare un paio però sicuramente se voi ne conoscete altri come è molto probabile che sia scrivetemi pure anche nei commenti qua sotto così magari mi posso informare e ne possiamo parlare anche in altri video allora due progetti di beneficenza di cui uno in particolare per uncinettatrici uncinettatori knitters eccetera è Shipitalia Shipitalia ha un suo sito ha anche la pagina facebook ha tutti i social scusatemi io sto cercando di fare da paravento da parasole qui e Shipitalia appunto è questa associazione no profit che si occupa di recuperare ci sono diversi progetti perché diciamo che l'associazione madre poi ha diverse capillarità in giro per l'Italia e diciamo che tutte le varie sotto associazioni cioè ci sono i sottoprogetti che si possono occupare di diverse cose per esempio in Lombardia c'era il progetto per recuperare anche i gomitoli interi cioè non già lavorati già uncinettati o sferruzzati in qualcosa si recuperavano direttamente dei gomitoli inutilizzati quando uno si vuole liberare e facevano questa raccolta questa campagna di raccolta gomitoli che poi dopo sarebbero stati impiegati per realizzare coperte eccetera poi ci sono i progetti invece per realizzare le coperte le mattonelle per le coperte all'uncinetto o ai ferri per i senza tetto per i bisognosi e quindi poi io vi lascio il link giù nell'info box ci sono diverse sedi in Italia oppure basta anche contattare sui vari social sulla mail su facebook trovate tutti i vari indirizzi da poter contattare per chiedere eventualmente dove si trova la sede che raccoglie materiale più vicino a voi poi ce n'è un altro di progetto di beneficenza che non è strettamente collegato al mondo dell'uncinetto della maglia però è molto carino e credo che comincerà mi pare dal 23 o 25 di novembre poi anche di quello vi metto il link sotto nell'info box che è i nipoti di babbo natale c'è anche qui il sito internet ci sono tutti i contatti a cui potersi rivolgere ci si iscrive gratuitamente perché ovviamente sono tutti i progetti di beneficenza vanno su volontariato ecco praticamente è una cosa carina perché tramite questo progetto si può scegliere si può adottare tra virgolette un nonno una persona ricoverata in una casa di riposo in base alla propria regione alla propria provincia dove c'è l'RSA più vicina eccetera adesso ancora credo che con il covid non si possa andare di persona a portare il regalo ma lo si può spedire una volta prima del covid si poteva andare direttamente a consegnare il regalo alla persona ricoverata ospite nella casa di cura nella casa di riposo praticamente voi adottate un nonno o una nonna che esprime un desiderio di Natale per un regalo e voi potete scegliere per esempio ci sono le RSA che sono iscritte a questa iniziativa a questo progetto e i nonni possono esprimere il nome del nonno la casa dove risiede il posto e il desiderio per esempio mi ricordo l'anno scorso c'era una nonnina che desiderava una maglia del Milan un nonno che voleva un libro possono desiderare le cose più disparate una nonnina aveva chiesto un cesto di gomitoli per poter lavorare all'uncinetto una serata a teatro un pranzo un cotechino cioè veramente una pipa un maglione cioè è bello perché per chi è rimasto senza nonni e per queste persone che sono sole in casa di riposo che magari non hanno figli non hanno nipoti oppure li hanno ma chissà dove anche per loro è un po' come tornare come sentirsi in famiglia tra virgolette lo so che col covid purtroppo si fa quello che si può però se non ci fosse il covid appunto fino a due anni fa si poteva realizzare il desiderio di prendere questo nonno o nonna e portarlo a pranzo fuori per Natale fargli passare una giornata diversa ecco e quindi secondo me anche una bella idea poter realizzare un desiderio di una persona sola in una casa di riposo ecco e quindi credo che aspettate anzi lo guardo in diretta perché non mi ricordo sera il 25 c'è il sito nipoti di babbonatale www.nipotidibabbonatale.it fai felice un anziano natale un sorriso in più appunto sul sito internet trovate veramente di tutto ah fra due giorni edizione 2021 nuovi desideri disponibili tra due giorni 23 ore un minuto e tre secondi quindi bello 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 scopri nipoti di babbonatale il progetto grazie al quale tutti possono realizzare il desiderio di un anziano che vive in una casa di riposo un piccolo gesto che si trasforma in qualcosa di magico bene tipo 5893 desideri realizzati l'anno scorso 2020 228 case di riposo aderenti è la piacevole sensazione di non essere dimenticati di essere scelti da uno sconosciuto che si prende a cuore la tua felicità è una speranza uno sguardo al futuro bene magari non so se fare un video dedicato appositamente forse è superfluo insomma e poi ci sono tutte le storie di tutti gli anziani che hanno che hanno condiviso appunto i doni c'è la galleria con tutte queste persone che è bellissimo queste persone anziane sole a maggior ragione col covid che magari non possono neanche vedere se li hanno i parenti però è bello insomma sono delle belle cose tipo delle ciabatte c'è un signore con un maglioncino di pile un libro un mazzo di fiori bello sto guardando una borsetta c'è un signore con una pipa una scatola di tabacco un profumo una foto del papa incorniciata una vestaglia bello 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 e vedere queste persone che sorridono di quei sorrisi che una scatola di pastelli con un album da colorare di quelli tipo mandala bello 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 bellissimo quindi c'è un signore con una scatola di parmigiano di formaggio quelle scatole regalo quelle confezioni regalo di parmigiano bellissimo sì perché poi i desideri veramente spaziano da morire cioè è bellissimo questa cosa bene poi sicuramente ci sono anche tutte le varie associazioni no profit per la tutela e per il recupero degli animali in difficoltà in Sicilia con l'alluvione che c'è stata ci sono adesso magari faccio una ricerca magari vi faccio un video apposta oppure ci sono i rifugi di animali abbandonati o maltrattati che vengono recuperati vengono salvati per esempio c'è il rifugio degli asinelli con una balla di fieno adesso c'è l'oasi Felina di Pianoro provincia di Bologna che è stata distrutta da un incendio sono anche morti purtroppo mi pare una decina otto o dieci gatti che erano ricoverati in infermeria la stanno ricostruendo però hanno bisogno di donazioni hanno bisogno di ci sono associazioni che portano le crocche cioè ci sono veramente tantissimi progetti per poter donare qualcosina in base a quello che uno può fare anche le varie raccolte di crocchette di alimenti per cani e gatti dei rifugi che ci saranno sicuramente anche nelle vostre città nei vostri paesi nei vari punti supermercato negozio di alimenti per animali ci sono davvero tantissimi progetti di beneficenza per uomini e animali quindi ovvio che uno vorrebbe fare di tutto di tutto non è possibile però ogni anno si può fare qualcosa ecco anche non sempre sotto le feste cioè si può sempre fare tutto l'anno però a maggior ragione sotto le feste si può fare anche qualcosina in più ecco bene 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 io ho parlato 46 minuti 37 secondi ah ok non c'era neanche più ah sì perché sta andando un po' via il sole vabbè io sono stata tre quarti d'ora col bagaglio qui per farmi schermo va bene ok va bene ciao Morin come stai Morin com'è la situazione da te ciao Federica buongiorno ciao Alessia buongiorno Elena G noi come casa di riposo lo scorso anno abbiamo partecipato al progetto i nipoti di babbo natale esatto proprio quello poi ci sono anche tante tante magari strutture che senza far parte cioè senza associarsi senza far parte di un progetto più ampio da sole di propria iniziativa lo fanno lo stesso per esempio magari in quei comuni piccoli in quei paesi piccoli possono fare i volantini insomma per la comunità ecco però sono belle iniziative sono secondo me sono cose importanti bene raga ora io vi lascio sono le nove vado a lavarmi e poi esco sperando che la nuvola di fantossi non mi venga ma per cui non mi piombi tra capo e collo stavo pensando no altre cose mi guardo sempre attorno per vedere se ho qualcosa che ho dimenticato di dirvi ma no dai sostanzialmente sono le nostre cioccoline vi ho aggiornato un pochino fatemi sapere poi voi nei commenti cosa state combinando di bello per Natale se state producendo cose o se avete già prodotto cose dai però siamo il 12 novembre ancora un po' di tempo ce n'ha io so che c'è gente che comincia già ad addobbare casa albero eccetera già tipo il 25 di novembre da me si è sempre fatto l'8 dicembre cioè l'8 dicembre l'immacolata è il giorno in cui si mettono le cose di Natale gli addobbi si tirano fuori albero presepe però insomma so che c'è gente che comincia anche prima e buona 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 morì situazione come da a posto ci siamo già detti tutto no vabbè dai speriamo bene speriamo bene su nulla raga io vi saluto guardo se per caso ho saltato ok no no perché delle volte mi scappano i commenti e nulla io vi ringrazio tantissimo per per chi è intervenuto in live che mi ha fatto anche soltanto un salutino e vi aspetto alla prossima non vi prometto giornata cioè non vi dico già ah il giorno tale farò la live ormai viviamo la giornata prendiamo quello che c'è ci becchiamo in ogni caso e nulla ah una cosa importante me ne stavo già dimenticando se per caso mi scrivete delle email o mi scrivete messaggi privati e non vi rispondo subito non vi preoccupate è perché sono delle giornate un po' così quindi quando ho tempo rispondo se non rispondo è perché non ho tempo cioè quello fondamentalmente però sapete che io prima o poi arrivo sempre magari ci metto due o tre giorni in più però ok no è giusto perché non voglio passare per quella che non risponde anzi però se ci metto un paio di giorni in più è perché in queste giornate un giorno è un inferno un giorno un po' meno quindi l'altro giorno ne avevo fin qua e ho tardato a rispondere mi dispiace far aspettare anche le persone che magari mi chiedono lo schema di qualcosa però cercate di capirmi è un periodo un po' così ok basta no ok ho detto tutto stavolta sì va bene vi mando un bacione un abbraccio passate un buon weekend un buon fine settimana e noi ci becchiamo alla prossima tanto voi se mi scrivete nei commenti poi vi rispondo ci sentiamo sempre in ogni caso siamo sempre collegati ciao a tutti